Nessuna incertezza, nessun tentanamento da parte di Luca Cavallito, il supertest al processo in corte del Sisecchieti per l'agguato sulla strada Parco a Pescara del 1 agosto del 22, nel quale lui stesso rimase gravemente ferito e nel quale venne ucciso l'architetto pescarese Walter Albi. Dal primo interrogatorio, dal 13 agosto, subito dopo essere uscito dal coma, la deposizione di questa mattina davanti ai giurati presieduti da Guido Campli ha sostenuto senza alcun dubbio che a sparare fu Cosimo Nobile. Una certezza dovuta non solo dal riconoscimento della voce, quando prima di esplodere l'ultimo degli otto colpi avrebbe detto questo è per i vostri amici e per te, così vi imparate a farvi i fatti vostri, ma anche dal taglio degli occhi sotto il casco integrale. L'ex calciatore pescarese è ripercorso nei minimi dettagli tutta la complessa vicenda. Con Ursino erano in corso alcuni affari che stentavano a decollare. Per quanto riguarda Cavallito, sarebbe stato emissario di un grosso carico di cocaina dall'Equador, 300 kg in tutto, tra personaggi albanesi e Ursino, il quale avrebbe pagato oltre 500.000 euro per il loro acquisto. Un primo carico di 150 kg ad avvenuto pagamento era atteso prima a Gioia Tauro, poi a Fiume, ma in realtà non sarebbe mai arrivato. Per quanto riguarda il coinvolgimento di Walter Albi era una vecchia conoscenza di Cavallito e sarebbe stato lui stesso a presentarlo ad Ursino, al porto turistico. In quel periodo Albi era vittima, sua insaputa, di una truffa. Non faceva che versare denaro a una fantomatica società di broccheraggio a Londra, diretta da un personaggio calabrese con la promessa di un cospicuo finanziamento mai arrivato. Una condizione di sudditanza e frustrazione che l'avrebbe portato a chiedere soldi a chiunque. Anche a Ursino, che a più riprese gli avrebbe prestato complessivamente 9.000 euro. In cambio, però, di alcuni favori, il più importante di tutti in una traversata transoceanica a bordo di un catamarano che Albi sosteneva di saper guidare per portare delle persone con problemi giudiziari in Australia. Queste altre promesse mai mantenute, tanto da far indispettire Ursino. Il ruolo di Nobile è Longo. Longo, a detta di Cavallito, era il riferimento pescherese di Natale Ursino, personaggio legato a una delle più importanti famiglie dell'Andrangheta calabrese. Nobile, invece, conosceva sia Longo che Ursino. Aveva grossi debiti con Cavallito per partite di droga vendute senza corrispondergli la sua parte. Era per questo inizialmente coinvolto nel traffico dei 300 kg di cocaina dall'Equador, così da compensare con la parte che gli aspettava il debito con Cavallito. Tre ore di deposizione da parte del supertest Cavallito, dunque, ascoltata in religioso silenzio dai due e dei tre imputati, il presunto fiancheggiatore Maurizio Longo e il presunto esecutore Cosimo Nobile. Quest'ultimo, però, verso la fine, ha avuto una reazione scomposta, alzandosi di scatto e urlando in vendo contro Cavallito la pubblica accusa. È comprensibile che una persona che è innocente si senta, in qualche maniera poi si risenta di dichiarazioni fatte. Ma io non faccio un po' succedere, diciamo, su accuse così gravi. Purtroppo è accaduto, forse avrebbe fatto meglio a non farlo, ma io capisco che le persone poi sono fatte a modo loro. La cosa che, invece, secondo me, può avere un senso è che capire le dichiarazioni di Cavallito. Io non metto in dubbio che Cavallito sia convinto di quel che dice. Io credo, però, che Cavallito dice delle cose per le quali ha un ricordo errato. Sia in esame diretto da parte della procura, da parte nostra, ma anche alle domande della difesa è sempre stato molto puntuale. Quindi, in effetti, è riuscito a mantenere sempre quella lucidità e quei ricordi che gli sono emersi subito, sin da subito, sin dal primo di agosto. Anche oggi, che è passato comunque del tempo, è stato puntuale e preciso per quello che, anche pure per le dichiarazioni a cui avevamo già assistito noi avvocati. Devo dire che, in effetti, con la sua deposizione, anche molti dei riscontri che abbiamo già sentito dell'attività di indagine chiude il cerchio.